Tutti i nostri studenti saranno a livello di Junior Developer e capaci di lavorare in qualsiasi azienda italiana. L'applicazione inizia da oggi per un mese e loro devono avere solo all'inizio un smartphone, c'è un'app che si chiama SoloLearn. Primo devono registrarsi sul nostro sito, lì vedono tutti i passi. Il primo è un'app su smartphone che si chiama SoloLearn e devono fare dei tutorial per imparare i primi passi di coding per far vedere se è una cosa che veramente si interessa. Poi progressano a fare altri tutorial su un computer che gli diamo a noi e se riescono a finire tutto il percorso fanno un piccolo sito web su di loro e un'intervista.